Partiti, quinta corsa del programma, premio oggi in Argentu, cavalli schierati a ventaglio nei primi 200 metri, si scorge solarina col cap bianco con all'interno il compagno sumeria Samar Brez, dall'interno avanza Sutarocca e Sutarocca con Sissilu, Selva del Monte Acuto per linee esterne ed è ancora al comando per linee interne Sutarocca in seconda posizione, in questa fase si porta in testa Selva del Monte Acuto ed è Selva del Monte Acuto decisa al comando, in seconda posizione il numero 13 Sutarocca, in terza Sissilu, in quarta avanza il numero 11 Soniende secondo, cavalli che stanno per rimetterci nella piegata finale, Ancora Selva del Monte Acuto al comando, sembra cedere Sutarocca, avanza per linee esterne il numero 11 Soniende secondo, cavalli che entrano in dirittura, Selva del Monte Acuto, Soniende secondo i due che si giocano la vittoria, attacco centrale di Soniende secondo che si porta a 150 finali al comando, e adesso Soniende secondo al comando, 50 finali sembra facile, Soniende secondo, al secondo posto finisce il numero 12 Samar Brez, al terzo il numero 4 Selva del Monte Acuto, si attende l'ordine ufficiale.